Germano e Roberta siete disposti seguendo la via del matrimonio ad amarvi e onorarvi lui e l'altro per tutta la vita? Sì. Io Germano accolgo te Roberta come mia sposa con la grazia di Cristo prometto di esserti sempre fedele nella gioia e nel dolore nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.